È una seconda edizione di Pesaro Challenge con la quale mettiamo in rete una serie di specialità, di discipline e di società sportive del territorio. Il nostro obiettivo è quello di creare un contesto nel quale tutta la cittadinanza può provare, sperimentare e godere dello spettacolo sportivo a tutti i livelli. Abbiamo parlato poco fa con un titolo mondiale di una specialità, ci sono titoli nazionali importanti, la nostra città di Pesaro veramente eccelle in diverse discipline e il contesto anche giovanile ci sembra il modo migliore per essere di stimolo e di esempio alle nuove generazioni. Uno di questi sport è il volley, siamo col vice presidente della Blue Volley che quindi è uno degli organizzatori poi dell'attività pratica che si svolge qui alla Pala di Pomodoro con questo sport. Sì, abbiamo organizzato un torneo di S3, spike ball, con tre squadre di Rovigo, una di Roma e quattro squadre nostre della Blue Volley e è andato benissimo, ci siamo divertiti. Il volley è uno sport in Italia molto seguito, molto praticato, tanti ragazzi giocano a volley ma è così vero che bisogna essere per forza alti? No, no, assolutamente no. Certo l'altezza dà una spinta in più, però bisogna essere coordinati e basta l'altezza giusta, uno non deve essere alto 1,90 per giocare a palla a volo. Poi ai livelli bassi l'importante è che si divertono, anche se sono bassi va bene uguale, ci sono ragazze basse che sono bravissime, hanno un'elevazione alta e quindi possono giocare anche a alti livelli. Ovviamente ne approfittiamo per un pronostico sui mondiali che ci sono in questo momento. Siamo stati bravi le prime tre partite, siamo arrivati in terza fascia, quindi ci tocca il Cuba, speriamo che vada benissimo. Poi dopo inizierà pure i mondiali femminili, quindi incrociamo le dita.